Amici di Unibet, torna il campionato e torna in campo anche l'Inter. Di scena a Firenze dopo il deludente 3-3 di Verona. Partita decisiva in ottica terzo posto. Per affrontare Eviola, Mancini pensa a un più semplice e ordinato 4-4-2. Bocciato probabilmente Brozovic, a centrocampo Konduk-Biakon-Medel. In avanti la coppia Icardi-Eder. Partita decisiva, in tribuna ci sarà il presidente Toir, osservato speciale Roberto Mancini. Costretto a vincere per non abbandonare la speranza del terzo posto.